Now is somebody I used to know Oggi voglio farvi vedere un gioco che ha vinto ben 4 premi al concorso italiano di magia Per fare questo gioco mi servono 1, 2, 3 e 4 jolly Vado a prendere il primo jolly e lo vado a mettere così sul tavolo E a fianco al primo vado a mettere anche il secondo Ok? Basta un attimo e i jolly arrivano in mano Se voi direte è ovvio avendo 4 jolly più uguali Ma vi ricordo che questo gioco ha vinto ben 4 premi al concorso italiano di magia Sapete perché? Perché questo è il primo premio, questo è il secondo premio, questo è il terzo premio e questo è il quarto premio Spero vi sia piaciuto Vi ricordo inoltre di seguirmi sulla mia pagina facebook, di iscrivermi al mio canale Vi auguro un buon 2014, un felice 2014 a tutti Oggi è il 31, sì quindi buon anno Spero vi sia piaciuta anche la mia nuova intro Se vi è piaciuta lasciate un bel like E ciao!